Sangue sulle strade, ubriaco alla guida di un SUV, travolge auto, morti due marittimi, lui arrestato. Cronaca, tir, schiaccia, auto ferma nella galleria di Collurania, salvo per miracolo. Giornata nera e nel pomeriggio l'8-0, chiuso per incidente, a piano d'accio, un'auto, finisce dentro un cortile. Teramo soprattutto, presentato il gruppo civico di Dodo di Sabatino, Alberto Covelli e Alessia De Paulis. Parcheggio stazione, sarà inaugurato il 23 dicembre, gratis per un mese e poi prezzi popolari. Sport calcio, dopo la protesta dei tifosi, salta il reality del Teramo senza riserve. Spal Teramo, Biancorossi domani a Ferrara per cercare il corpo in casa della capolista. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con informazione di Teleponte in questa seconda edizione del TG. È stata una giornata molto lunga e tragica sulle strade del Teramano. Si è cominciato questa mattina con l'arresto, adesso è piantonato nell'ospedale di Sant'Omero, dove è ricoverato il cittadino inglese di 35 anni che la scorsa notte, lungo la statale 16 Adriatica, a Martinsicuro, alla guida del suo SUV, ha travolto una utilitaria provocando la morte di due marittimi di 52 e 41 anni che si recavano al lavoro. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, intervenuti per i rilievi, l'uomo rientrava da una cena e aveva un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Avrebbe anche tentato la fuga subito dopo lo schianto e per questo la procura di Teramo, con il pubblico ministero, la guacolica, ha disposto l'arresto per omicidio colposo aggravato. Le vittime, Graziano Battisteri di 52 anni di Tortoreto e Marco Iampieri, 41 anni, si recavano all'imbarco a San Benedetto del Tronto, erano le 2.30 della scorsa notte, sulla loro Volkswagen Polo è piombata ad alta velocità l'Audi Q7 condotta dall'inglese che procedeva nello stesso senso di marcia, sud-nord. Il tamponamento è stato terrificante. L'utilitaria è stata lanciata contro il guardrail che ha trafitto e dilaniato l'autovettura facendo scempio dei suoi due occupanti. Uno è stato sbalzato all'esterno, finendo contro il muro di una casa, l'altro è rimasto intrappolato nell'abitacolo schiacciato dalla Polo, decapitato. Le identificazioni sono state rese difficili proprio dalla pietose e tra pietose condizioni dei corpi. Il SUV ha finito invece la sua corsa nel cortile di un'altra abitazione, dopo averne diverto la recensione ed essersi ribaltata più volte. Drammatica è stata la scena che si è presentata che gli automobilisti che percorrevano stamattina verso le 8.30, invece il raccordo verso l'autostrada A24. Nella galleria di Colorania, nella canna in direzione Villavomano-Teramo, un tir ha travolto una piccola Peugeot che era ferma sulla corsia, forse perché impanne. Il motivo del fermo della vettura lo chiariranno gli agenti della Polizia Autostradale della sezione dell'Aquila. Sta di fatto che, secondo il racconto dell'autista del tir, la macchina è stata evitata all'improvviso da un furgone che precedeva l'auto articolato, ma non da questo. Lo schianto è stato terrificante, la Peugeot ridotta ad un ammasso di camiere, come potete vedere nelle immagini girate subito dopo l'incidente. Il tir è finito contro un muro della galleria. Pezzi di auto e camion sono stati disseminati dappertutto. L'uomo alla guida della macchina, un uomo di 39 anni, di Isola del Gran Sasso, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è in ospedale a Teramo. Le sue condizioni sono critiche, ma non correbbe pericolo di vita. In condizioni critiche è anche un 23enne di Roseto, che sempre la scorsa notte, lungo la Stradale 150, nei pressi di Contrada San Giovanni di Roseto, ha perso il controllo della sua macchina, un Audi A3 che è finita fuoristrada contro una pensilina degli autobus. Nello schianto ha riportato gravissime fratture e lesioni per cui è stato trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo. E la giornata nera degli incidenti nel Teramano è proseguita anche nel pomeriggio sull'8.0. Ne vediamo adesso le immagini. Nel tratto tra gli svincoli di Teramo Est e Teramo Ovest, che poi è stato chiuso al traffico per un grave incidente che ha coinvolto tre macchine. Il bilancio è di due feriti, dei quali uno in condizioni serie. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Teramo, l'incidente sarebbe stato provocato dalla sbandata di una Citroen C2 che si è schiantata contro una Punto che procedeva in senso inverso sul viadotto che supera la zona di Ponte a Catena. Sulle due auto è finita poi un Audi A3 condotta da un noto imprenditore del settore turistico Teramano che è rimasto il leso. I soccorsi sono stati immediati e il personale del 118. Come vedete alle immagini, con l'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco ha estratto dall'abitacolo della Punto la donna che era la guida, una veterinaria Teramana di 47 anni, la conducente che era sola nell'abitacolo dell'auto ha riportato serie conseguenze agli arti e al torace ed è stata trattata con un codice rosso pronto soccorso del Mazzini ma non corre pericolo di vita. Conseguenze serie anche per il conducente della Citroen soprattutto agli arti inferiori. Ed è andata decisamente meglio, risolviamo sempre nel tema degli incidenti stradali, sempre oggi nel pomeriggio, alla conducente di un Audi che vedete nelle immagini che nel pomeriggio a Piano Daccio ha prima centrato una Opel in sosta e poi ha saltato la recensione di un'abitazione entrando praticamente nel cortile e posizionandoci in una posizione sicuramente poco ortodossa. Tragedia sfiorata perché il proprietario di quest'altra macchina che vedete nelle immagini, la Opel, quella colpita, era rientrato nell'abitacolo proprio poco prima dello schianto. Molti danni alle autovetture, poche conseguenze, anzi nessuna, fortunatamente per gli occupanti delle auto coinvolte. è stata insomma una giornata nera che noi adesso passiamo agli archivi per parlare di politica. È stato presentato questa mattina a Teramo, il nuovo gruppo civico Teramo Soprattutto, creato da Alfonso Di Sabatino Martina. Al gruppo già hanno aderito i consiglieri Alberto Covelli e Alessia De Paolis, come è noto. Non è scuso che anche altri possano aderire nei prossimi giorni. Per la prossima giunta, ha detto Di Sabatino Martina, si scelga in base a competenze e qualità e non in base ai voti presi. Ascoltiamolo. Chi fa parte di questa nuova lista? È Alberto Covelli e Alessia De Paolis. È una lista di grande respiro che dà entusiasmo, un nuovo slancio alla politica e davvero un buon auspicio per questa città e credo che più che adesso ce ne fosse davvero bisogno. Dove si colloca? Si colloca in maggioranza, chiaramente avrà un ruolo di pungolo e di stimolo per questa amministrazione e cercherà anche di limitare gli errori che finora sono arrivati in maniera piuttosto copiosa. Campagna acquisti? No, noi non facciamo campagna acquisti. Contatti? Tanti, tanti. Più di uno. È stato gettato un macigno in uno stagno. Evidentemente la capacità di ascolto e di persuasione era davvero in una fase minimale in questa amministrazione. È una lista che nasce alla vigilia del rimpasto o dell'azzeramento di giunta. Qualche obiettivo? No. In tal senso? Non nasce per questo. Questa è una lista che nasce per fare altro, è una lista che nasce per dare una prospettiva e per assicurare un buon governo a questa città. Non ha ambizioni di nessun genere né velleità personale. Non siamo legati alle poltrone, lo abbiamo già dimostrato. Io nello specifico vorrei venire ad un'ampia riprova e quindi proseguiremo nel solco che in qualche modo è stato già tracciato. Se vi verrà offerto un posto in giunta? Ci ragioneremo in maniera molto serena, ma non è questo il tema. Abbiamo altri obiettivi e in i prossimi giorni avremo modo anche di parlarne su tanti temi che in questa città sono molto più cari e che devono interessare i cittadini. Le poltrone interessano molto meno i cittadini. Secondo voi quale criterio dovrà utilizzare il sindaco per individuare i nuovi assessori, visto che in passato è stato adottato soprattutto il criterio dei voti presi. Chi ha preso più voti ha avuto un posto in giunta. Se dovesse essere lo stesso il criterio è ovvio che le persone sarebbero le stesse. Un criterio di merito, un criterio di qualità, un criterio di possibilità di espressione nell'ambito di un gruppo delle migliori intelligenze e delle migliori capacità possibili. Questo è quello che conta. Io credo che oggi più che mai ci sia bisogno di questo. Il resto è davvero chiacchiericcio sterile e contribuisce ad alimentare l'antipolitica che già ha parecchi sostenitori nelle proprie fila. Come avete sentito da tutti i sabbatini o Martina, non chiediamo posti in giunta, anche se in base ai numeri del nostro nuovo gruppo civico potremmo aspirare ad avere un posto nell'esecutivo di Brucchia. In sostanza, quanto dicono anche Alessia De Paolis e Alberto Coverri, neoconsiglieri di questa lista civica Teramo, soprattutto. Ascoltiamoli. Perché questa scelta? Per il bene della città. Una lista civica, un gruppo civico vuol dire ambientarsi, cercare di migliorare la città, cercare di, lo dice la parola stessa, il progetto è molto ambizioso perché noi comunque vogliamo crescere, saremo un gruppo molto inclusivo, non ci chiudiamo nelle nostre stanze, noi vogliamo parlare con i cittadini, noi vogliamo che questa città migliori sempre di più. Questo non vuol dire che oggi va male, vuol dire che si può fare ancora. Lo dicevo anche prima con altri colleghi, nessuna amministrazione è perfetta perché non c'è mai la perfezione, però si deve sempre provare a raggiungerla. Noi abbiamo pensato a questo progetto, poi ovviamente presenteremo anche un documento scritto da me e i due colleghi, perché noi vogliamo il bene. Noi con questo progetto della nascita del gruppo civico non abbiamo ambizioni e non abbiamo assolutamente richieste di entrare in giunta, anche se l'attuale assetto del gruppo permetterebbe la richiesta o quantomeno la sottoposizione al sindaco di un eventuale ingresso di uno dei consiglieri in giunta. È da sottolineare che comunque saremo la seconda forza numerica all'interno della maggioranza e quindi avremmo un ruolo importante di non solo controllo, ma sicuramente di proposizione, di progetti e di sviluppo per la nostra società. Dal 23 dicembre, giorno della inaugurazione, fino al 31 gennaio, il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Teramo sarà gratis per tutti, poi si pagheranno 20 centesimi l'ora e 2,50 euro al giorno per la mezza giornata, 1,50 euro. Vediamo il servizio. Il 23 dicembre verrà inaugurato il nuovo parcheggio della stazione di Teramo. Sì, abbiamo completato le opere, ieri abbiamo completato il mando d'asfalto, lunedì le ferrovie faremo il verbale di riconsegna dell'area perché, ripeto, quella è un'area concessa da RFI al Comune di Teramo con un pagamento di un cane nostro a favore delle ferrovie dello Stato. Martedì completeremo la segnaletica e poi faremo l'inaugurazione di quei 110 stagli in quella zona che sono molto utili soprattutto per il commercio, ma anche per i pendolari, tutti coloro che vanno a lavorare con il treno. Saranno subito disponibili? Sì, saranno subito disponibili, fino al 31 gennaio penso che saranno libri non a pagamento perché è giusto, dobbiamo completare gli allacci per i parchimetri e quant'altro e la consegna poi a chi andrà a gestire provvisoriamente, penso alla Terco perché ha avanzato una proposta e non ci sono nessun tipo di problema per poterli affidare a loro in questo lasso di tempo in attesa della gara complessiva del parcheggio a livello comunale. Dopodiché metteremo a pagamento ma sarà un pagamento davvero irrisorio perché saranno 20 centesimi ora, 1,50 euro e mezza giornata e 2,50 euro l'intera giornata dunque sarà la possibilità data a tutti di parcheggiare diciamo con bassissimo costo in quella zona. Assessore c'è qualche polemica nel quartiere della Gammarana per la nuova pista ciclabile che avrebbe tolto spazio alla strada ma soprattutto parcheggi? A me a Teramo purtroppo si polemizza su tutto lì abbiamo riqualificato una zona i parcheggi sono aumentati abbiamo anche approfittato dei lavori per segnalare tutti i parcheggi si possono materializzare sul posto le elementi sono solo che abbiamo ristretto la carreggiata fra la pista ciclopenale e i parcheggi ma è stata una cosa prettamente voluta perché quella è una zona diciamo abitata dove non si può correre perché non è una superstrada dunque la corsia dove il minimo è 2,75 noi abbiamo fatto tutte le corsie da 3,50 ma far sì che le macchine vadano con la giusta velocità per evitare che qualche bambino che esce dalla pista ciclopenale con la bici o qualche persona che corre venga investito dunque è stato prettamente voluto quel restringimento ma non il restringimento perché ripeto che la corsia minima è 2,75 noi abbiamo fatto 3,50 dunque non è per una corsia senso unico dunque abbiamo calcolato tutte le possibili per mettere quella zona in sicurezza sia per i pedoni ma sia anche per le macchine che circolano in quella zona girare per la città con gli occhi bendati per capire le difficoltà dei non vedenti iniziativa dell'Unione Italiana Cecchia coinvolto anche il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi il progetto rientra nell'ambito della manifestazione con i tuoi occhi organizzata dall'associazione Bambun e dalla AS vediamo avete voluto questa iniziativa per far capire a chi ci vede come vive un non vedente o un ipovedente Sì abbiamo fatto questa iniziativa che all'interno di una settimana di eventi in cui si è sviluppata la problematica dell'ipovisione e della non visione in particolare oggi siamo qui per far capire un po' agli amministratori le barriere che noi incontriamo perché quando si parla di barriere soprattutto si parla di barriere per i motori però andando in giro anche i non vedenti sono anche barriere per non vedenti soprattutto alcuni ostacoli ma si deve tener conto anche delle tabellonistiche che a volte sono un'altezza divisa e quindi se non si sta attenti si rischia di perdere i denti Dunque quali sono i problemi più grossi che trovate in una città come Teramo? Nella città come Teramo alla fine il problema più grosso secondo me è la non educazione degli autosti perché io sì critico un pochettino l'amministrazione però capisco anche loro che per far sì che gli automobilisti non entrano con le macchine dentro ai negozi hanno dovuto installare alcuni ostacoli che per noi sono ostacoli che però per altri sono modi di evitare che intralciano tutti però credo che forse la cosa principale che si dovrebbe fare è sensibilizzare proprio la cittadinanza essere educati e non entrare per forza dentro i negozi con le macchine ma andarci a piedi anche perché la città vissuta così camminando a piedi è bellissima Sindaco lei è stato bendato già da qualche minuto intanto che sensazione ha? Guarda davvero io non sono ansioso ma provo un po' di ansia ma insomma io questa esperienza così dopo le carrozzine è davvero è stata un'esperienza che mi ha fatto capire come se anche tu credi di aver risolto un problema o di averlo affrontato in maniera giusta di fatto così non è e credo che oggi questa esperienza mi darà la stessa prova e per un amministratore è importante comprendere queste difficoltà noi abbiamo fatto tanto non è mai troppo per esempio ovviamente i lavori del corso prevedono dei percorsi per i povedenti e non vedenti però non è mai non è mai troppo non è mai sufficiente bisogna fare di più e credo che queste esperienze vadano anche fatte perché ti fanno crescere ti fanno crescere da un punto di vista umano ma ti fanno crescere anche come amministratore di una città diciamo quale sono io come sindaco adesso andiamo a Campi perché si apre la porta santa della misericordia il rito solenne comincerà domani alle 15 e 30 alla presenza del vescovo dell'Aquila vediamo domenica 20 dicembre a Campi si apre la porta santa per il giubileo il raduno è per le 15 e 30 davanti alla scala santa sì un evento molto importante Campi è meta giubilare quindi domenica c'è il raduno davanti alla scala santa alle 15 e 30 per poi trasferirci insieme a tutti i pellegrini davanti al duomo in cui c'è il vescovo dell'Aquila che appunto aprirà questa porta santa un evento molto importante che si va a inserire in un'iniziativa di rilancio del comune di Campi noi stiamo puntando molto sulla promozione turistica e logicamente questo evento si inserisce in maniera rilevante per riqualificare Campi e quindi dargli una rilevanza anche a livello turistico religioso logicamente voglio ringraziare l'arcidiacono don Adamo che si è interessato e l'eccellenza Michele Seccia che ci ha permesso appunto di avere la porta santa e quindi ci saranno tante altre iniziative nel corso dell'anno è questa la porta della misericordia che verrà aperta domenica a Campi è la porta della cattedrale sì è la prima volta nella storia che qui a Campi viene aperta una porta santa e un ringraziamento quindi al nostro vescovo Monsignor Michele Seccia perché ha voluto che Campi fosse meta giubilare domenica avremo questo grande evento dell'apertura della porta alle 15.30 ci sarà il ritrovo presso il santuario della Scala Santa dove i pellegrini potranno salire la scalinata per poi in pellegrinaggio arrivare qui davanti alla porta della misericordia e l'arcivescovo emerito dell'Aquila Monsignor Molinari spalancherà la porta della misericordia di Dio e dopo l'apertura della porta santa sarà celebrata la Santa Messa sì sarà sempre Monsignor Molinari a presiedere la celebrazione eucaristica alla presenza dei sacerdoti della forania di Campi Civitella oggi nel giorno di San Berardo chi donava 3 euro al Conad della Conad di Teramo permetteva allo stesso Conad di destinare un panettone e un torrone ai poveri della Caritas testimonia dell'iniziativa l'attrice teramana ma grazie a Scucci Marra vediamo iniziativa di solidarietà al Conad di via Cona a Teramo che vede come testimonial l'attrice grazie a Scucci Marra chi dona 3 euro oggi dona alla Caritas un panettone e un torrone esatto quindi noi non diamo niente non vendiamo niente qui ma facciamo sì che la gente possa offrire alla mensa della Caritas un panettone e un torrone al prezzo di 3 euro quindi molto parca questa richiesta il bello è che io in famiglia tante volte nei momenti di irritazione quando mi chiedono troppo dico ma che cosa credete che io sia un supermercato sì ebbene sì perché sono qui a fare il lavoro del supermercato tra l'altro lei come sempre non si sta risparmiando avvicina la gente con la sua grazia con la sua simpatia corro dietro alle persone perché tanta gente proprio non è molto disponibile devo dire sarà che sono in tanti a chiedere oggi e quindi c'è un po' di difficoltà però insomma siamo abbastanza soddisfatti del risultato finora raggiunto abbiamo sentito una persona che lei diceva ma poi siamo sicuri che questi panettoni e questi torroni vanno alla Caritas rassicuriamo tutti coloro che vogliono fare beneficenza rassicuriamo tutti perché questi vanno dal produttore al consumatore brevi manu vengono portati dalle persone proprio addette c'è la signora Gabriella qui che fa diciamo fa testo per tutti e quindi arrivano in mani sicure non se li mangiano gli altri insomma hanno mangiato ben altro non credo si attacchino anche ai panettoni adesso ci dito brevemente quello di Pasqua brevemente il nostro obiettivo era quello di accontentare i bambini bisognosi non solo con i beni di prima necessità che andavano a prendere l'emporio della Caritas ma regalargli un uovo abbiamo voluto diciamo sensibilizzare questa cosa invitando dei testimonial che sono stati i calciatori del Teramo sono accorsi in tantissimi e hanno con un prezzo simbolico hanno acquistato questo uovo da Reporo e poi alla Caritas e tutti diciamo chi andava giù gli veniva offerto questo uovo per Natale abbiamo pensato al panettone stessa cosa panettone Pandora e Torrone in modo che famiglie con bambini che vanno alla Caritas a prendere bene le prime necessità possono anche loro avere un panettone Nelson Mandela Matt Magandi Martin Luther King tre uomini una sola storia che dura un secolo il progetto delle classi quinte della scuola primaria San Berardo ha portato alla realizzazione di un videoclip con una collaborazione dell'artista teramano Tony Fidanza domani 20 dicembre alle 16.45 nella sala San Carlo verrà presentato il videoclip alla presenza delle autorità ma soprattutto del vescovo della dioce Simonsignor Michele Seccia e del vicepresidente del centro culturale islamico albanese in Teramo Miftali vediamo il servizio domani domenica 20 dicembre alla sala San Carlo alle 16.45 quella piccola voce Tony Fidanza che cosa è quella piccola voce? quella piccola voce è un brano che io ho scritto a quattro mani insieme a Luca Strappelli che ha curato il testo che sarà presentato domani alla sala San Carlo alle 16.45 mi sento di invitare tutti quanti un lavoro io lo chiamerei quel piccolo è stato compiuto un piccolo miracolo da parte dei bambini che nel giro di due mesi sono riusciti a cantare un brano fra l'altro nemmeno troppo facile però gliel'hanno fatta infatti è stata una gradevolissima sorpresa quando loro hanno registrato hanno avuto una resa oltre l'aspettativa e sono i ragazzi della scuola San Berardo a cantare? la scuola San Berardo sì che fra l'altro io ho frequentato quindi sono estremamente fiero di essere stato coinvolto in questo progetto e di aver incontrato le maestre fantastiche che hanno curato questo progetto con molta passione così come l'abbiamo fatto io a Assunta dei Marcellis e le persone che ci hanno lavorato intorno Tony il manifesto è molto particolare perché ci sono Nelson Mandela Gandhi e Martin Luther King perché? sì il messaggio di fratellanza di uguaglianza oggi è più che mai attuale in questi tempi l'associazione culturale Teramo Nostra organizza anche quest'anno la festa della Teramanità domani alle 20.30 nella sala polifunzionale della provincia di Via Comi a Teramo si terrà la cerimonia di premiazione di otto persone che hanno dato lustro alla città si tratta di Roberto Crisci Luciano D'Amico Giuseppe D'Andrea Lagalla Claudio Di Donato Antonio Gian Domenico Di Sante Raffaele Falone Gianni Novelli e Raimondo Paganico il Natale degli sportivi collegato alla solidarietà organizzato dal CSI di Teramo si terrà domani nel corso della serata alla quale parteciperanno tra gli altri le campionesse di ginnastica ritmica Desiree Pagliaccia e due campioni della palacanestro Riccardo Morandotti e Ivan Bisson verranno raccolti fondi da destinare all'associazione Autismo Onlus Abruzzo 20 dicembre il Natale degli sportivi 2015 a Teramo con la partecipazione di Monsignor Michele Seccia che incontra il mondo dello sport provinciale organizza il CSI insieme al CONI Angelo De Marcellis come si svolgerà questa serata? Intanto è un'iniziativa che ormai è tradizione quindi è certamente un punto di ritrovo per gli sportivi teramani è una serata che sarà soprattutto una cena di solidarietà dove avremo modo di condividere diciamo dei momenti insieme anche a grandi campioni dello sport che si sono contraddistinti con la maglia della nazionale italiana in particolar modo abbiamo una campionessa di ginnastica ritmica che è Desiree Pagliaccia vincitrice di sei scudetti con l'armonia d'Abruzzo ma anche ha partecipato ad un europeo quindi è un atleta di riferimento per lo sport italiano e anche due campionissimi della palla a canestro in particolar modo parliamo di Riccardo Morandotti che insomma anche lui ha vinto degli scudetti è stato una punta di diamante della Virtus Bologna e abbiamo anche Ivan Bisson che da qualche anno vive a Roseto ha partecipato a due Olimpiadi quindi una persona che ha vinto tantissimo credo che insomma sia uno un riferimento per lo sport italiano in genere non solo per la palla a canestro Dario Verzulli è il presidente dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus che partecipa al Natale degli Sportivi e questa manifestazione sta anche dalla parte di Io Sto con i disabili in qualche modo proprio la la sponsorizza idealmente è così? Sì è così abbiamo raccolto l'invito degli organizzatori del CSI delle associazioni Terramane e del Comitato Terremo Solidale e siamo qui per testimoniare il nostro apprezzamento a questa iniziativa che speriamo anzi siamo certi sarà sicuramente molto apprezzata dalla città per raccogliere dei fondi delle risorse che noi come già stiamo facendo le utilizziamo per l'acquisto dei voucher che vengono donati alle persone che non hanno un'assistenza domiciliare adeguata o comunque non ce l'hanno per nulla l'associazione Shop Art di Teramo con la collaborazione di diverse associazioni di volontariato del territorio teramano ha organizzato nella sala espositiva di via Nicola Palma a Teramo un mercatino di Natale con manufatti artigianali accompagnato anche da una mostra di quadri di Walter Iannetti sarà possibile visitarla fino al 23 dicembre prossimo vediamo nella sala espositiva di via Nicola Palma a Teramo fino al 23 di dicembre ci sarà un mercatino molto particolare organizzato dall'associazione Shop Art e che coinvolge diverse associazioni di volontariato del territorio sicuro noi abbiamo organizzato una mostra dal titolo Io Creo in effetti tutte le esposizioni e i manufatti sono originali e creati da sette teste creative diverse con questa manifestazione con questa mostra Shop Art intende condividere con la cittadinanza un percorso creativo nel cuore al centro di Teramo per salutarci anche per il Natale Non solo mercatino adesso ci troviamo nella stanza dove ci sono i manufatti artigianali nell'altra invece sala c'è una mostra e ci sono anche dei laboratori C'è una mostra di Walter Iannetti che abbiamo realizzato un sogno perché è da 30 anni che lui dipingeva e ha dipinto e non sapeva come mostrare i suoi dipinti e finalmente ha realizzato il suo sogno e siamo felici Poi abbiamo i laboratori Shop Art cosa sono? Sono dei laboratori che noi apriamo lo spazio a dei bambini abbiamo aperto lo spazio al centro di urno e sono ragazzi grandi che vengono ogni lunedì pomeriggio e si esprimono e lavorano è come un'art terapia secondo progetto Poi abbiamo anche la scuola elementare annessa al convitto Melchiorre Delfico sono dieci ragazzi che il pomeriggio vengono a dipingere e a creare disegnare e poi c'è anche un gruppo libero spontaneo di bambini adulti che avendo sentito di questa apertura del laboratorio Shop Art Creativo si sono annessi e quindi c'è un laboratorio in atto e noi abbiamo portato i frutti di questo laboratorio potete ammirare Adesso vediamo quali sono le previsioni del tempo nel servizio curato da meteoteramo.it poi parleremo di sport Previsioni per domenica 20 dicembre in Abruzzo Tempo caratterizzato da cielo in prevalenza sereno per l'intero arco della giornata su tutto il territorio regionale Temperature stazionarie massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli sud orientali mare calmo in provincia di Teramo al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno Temperature in lieve diminuzione massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 13 e 16 gradi sulle coste venti deboli sud orientali mare calmo la pagina sospettiva si apre con la serie B nel derby d'Abruzzo della cadetteria il Pescara è spugnato il guido biondi di Lanciano con il risultato di 2 a 1 al termine di 90 minuti combattuti Biancazzurri ospiti hanno segnato il vantaggio al ventisesimo del primo tempo con Gianluca Caprari e il raddoppio al quinto della ripresa con Memushai su calcio di rigore ha segnato per un tocco con la mano in area di Dicecco proprio quest'ultimo all'undicesimo ha realizzato il gol per i locali la gara è stata giocata davanti a oltre 4 mila spettatori di cui oltre 1.300 provenienti da Pescara e passiamo adesso alla Lega Pro nel girone B il weekend vede giocare la sedicesima di andata che è cominciata già intanto oggi questo il quadro delle gare lo vediamo insieme è finita 2 a 2 tra Rimini ed Ancona il tutto cuoio ha vinto a Siena per 4 a 0 l'Aquil è stata sconfitta a Lucca dalla Lucchese per 3 a 1 questa sera alle 20.30 ha in programma Pistoiese-Savona il quadro si comprenderà domani con Maceratese-Arezzo Prato-Cararese Lupa-Roma-Pisa Spal-Teramo e Pontedera-Sant'Arcangelo il Teramo gioca dunque domani alle 15 l'avversario dei Biancorossi è la Spal capolista solitaria del girone B sul fronte della formazione out il solo Simone Calvano alle prese con il mal di stagione assente anche il tecnico Vivarini che deve scontare il suo secondo turno di squalifica in panchina ci sarà ancora il vice allenatore Biancorosso Fabrizio Zambardi sulla gara del Paolo Mazza seguiamo questo servizio Invertire la rotta in trasferta e chiudere al meglio un 2015 che ha riservato più amarezze che soddisfazioni è questo l'obiettivo che il Teramo si è posto in vista dell'ultimo impegno ufficiale dell'anno solare la trasferta in casa della Spal capolista del girone B in Emilia non ci sarà Vivarini che deve scontare il secondo turno di squalifica al suo posto in panchina siederà il vice allenatore Fabrizio Zambardi Abbiamo davanti la prima in classifica una squadra molto molto quadrata la squadra fa un 3-5-2 quindi quasi speculare al nostro una squadra equilibrata soprattutto se vediamo i gol i gol realizzati questo dimostra che la Spal è un'ottima squadra lo dimostra anche il fatto che è prima in classifica che ha perso solo due partite una in casa e una fuori i presupposti ci sono tutti per fare bene lo stimolo sicuramente è questo Al Paolo Mazza è atteso il pubblico delle grandi occasioni saranno infatti oltre 5.000 gli spettatori presenti sugli spalti Il fattore campo mi preoccupa l'anno scorso ma staviglia c'erano 4.500 persone questo per noi credo sia uno stimolo in più uno stimolo in più perché giocare è vero sì contro 6.000 persone 4.000 5.000 quanti ce ne saranno potrebbe essere controproducente invece deve essere uno stimolo prima in classifica stadio pieno dimostrare quello che si è realmente penso che sia il palcoscenico migliore sul fronte ferrarese il tecnico semplice deve valutare le condizioni di tre elementi De Vitis Finotto e Ferri tutte alle prese con acciacchi fisici vari in settimana l'allenatore Spallino ha invitato i suoi giocatori a non sdobbare l'impegno abbiamo una partita secondo me difficile forse la più difficile all'inizio dell'anno dove incontriamo una squadra che sotto l'aspetto dei punti non ha sembrerebbe non avere grande valore ma oltre alla penalizzazione credo stiano attraversando hanno attraversato un periodo negativo anche per il fatto insomma di aver vinto l'anno passato il campionato in maniera netta e quindi hanno subito un po' sia la penalizzazione che questo stato psicologico l'arbitro Spalteramo sarà diretta da Niccolo Baroni di Firenze Baroni è al quarto anno nella Campro e finora portata a termine a 62 incontri con un bilancio di 22 segni 1 18 X e 22 2 ha un precedente abbastanza curioso con il diavolo arbitro Spalteramo dello scorso campionato partita che finì 0 a 0 tra le recriminazioni dei biancorossi che colpirono ben due legni restiamo in casa biancorossa per dire che hanno vinto i tifosi il docu reality senza riserve per il momento non andrà in onda la Teramo Calcio lo staff organizzativo di senza riserve scena 1 ha preso atto della negativa opinione espressa da una parte della tifoseria biancorossa relativamente al docu reality in questione del fraintendimento scaturito sul significato dello stesso nella persona del presidente Luciano Campitelli comunica di non dare temporaneamente seguito agli intendimenti iniziali di interrompere la naturale prosecuzione operativa del progetto televisivo ci si orienterà pertanto dicono al Teramo Calcio verso progetti alternativi che possano valorizzare il brand ed alimentare la visibilità della società e del territorio di riferimento avete visto dal risultato della titolatrice l'Aquila è stata sconfitta per 3 a 1 a Lucca è stata una partita subito in salita per il rosso-blu sotto di due reti dopo appena 8 minuti e in 10 dal 40esimo per l'espulsione di Zandrini nella ripresa la squadra di Perrone ha subito il gol di Terrani che ha chiuso il match e segnato il gol della bandiera al 60esimo con Sosa passiamo adesso alla serie di Nel Girone F si gioca domani l'ultima giornata di andata ecco il quadro che vediamo insieme degli incontri in programma Agnonese-Materica Amiterlina-Fermana Fano-Vispesaro Folgore-Veregra Castelfidardo Giulianova-Monticelli Isernia-Campobasso Iesina-Chieti Re Canatese-Avezzano e San Nicolò che è impegnato sul campo della capolista San Benedettese vediamo comunque il servizio che ci spiega il dettaglio della giornata Raccogliere i tre punti per congelarsi al meglio dal 2015 è questo l'obiettivo con il quale le formazioni abruzzesi del Girone F di Serie D si apprestano ad affrontare l'impegno di campionato che precede la lunga pausa per le festività natalizie domani pomeriggio nel massimo torneo dilettantistico nazionale e in programma la diciassettesima d'andata l'attenzione generale è rivolta verso il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto teatro del big match tra la Battistrada San Benedettese e la quarta forza del torneo il San Nicolò un San Nicolò che arriva a questo incontro con il morale a terra nell'ultimo mese e mezzo infatti la formazione di Massimo Epifani ha raccolto appena tre punti e tutti in casa dall'altra parte invece c'è una capolista in stato di grazia con l'avvento di Ottavio Palladini in otto partite il rosso-blu hanno ottenuto sette vittorie e un pareggio prendendo così largo su tutte le principali antagoniste nella corsa alla promozione tra i professionisti sulla carta il pronostico pende a favore dei marchigiani ma Bucchi e compagni hanno tutte le carte in regola per strappare un risultato positivo e per rilanciare le loro ambizioni in chiave playoff quei playoff che sono il sogno anche di Chieti e Avezzano entrambe chiamate a sostenere delle trasferte piuttosto insidiose i tiatini sono di Scenanghiesi su uno dei campi più ostrici dell'intero girone i marsicani invece giocano contro una re canantese galvanizzata per il blitz messo a segno sette giorni fa nel derby di fermo nei bassi fondi della Gratatori invece è atteso da un compito molto delicato il fanalino di coda Giulianova i giallorossi ricevono la visita del Monticelli una delle squadre rivelazione di questa prima parte di stagione quella del Fadini è una gara molto particolare soprattutto sul piano ambientale sulla panchina giugliese infatti fa il suo esordio Michele Gelsi che in settimana ha rimpiazzato l'esonerato Francesco Giorgini una decisione quest'ultima maldigerita dai tifosi che adesso potrebbero prendere iniziative clamorose nei confronti del neopresidente Serraiocco infine nelle zone calde della classifica spicca Amiternina Fermana una sfida che mette di fronte due formazioni pericolanti ed entrambe a rischio retrocessione E domani è una giornata importante nel campionato di eccellenza perché l'ultima di andata segna il titolo di campione d'inverno in Rizza ci sono Paterno e Vastese ma vediamo anche in questo caso il programma degli incontri Acqua e Sapone Celano Alba Adriatica San Salvo Capistrello Martinsicuro Cupello Pineto Francavila San Buceto Morrodoro Migianico Paterno Renato Curi Angolana Torrese Montorio 88 Vastese Val di Sangro anche in questo caso vediamo il servizio che ci spiega nel dettaglio la giornata Chi metterà il titolo di campione d'inverno sotto l'albero di Natale la risposta arriverà domani pomeriggio nel campionato di eccellenza buzzese questo weekend si gioca l'ultima giornata del girone d'andata una giornata che dovrà designare la formazione regina di questa prima parte di stagione le attuali capoliste del raggruppamento Paterno e Vastese sono entrambe impegnate in casa al cospetto di avversari di medio-bassa classifica gli aragonesi ricevono la visita della Val di Sangro mentre i marsicani se la devono vedere contro l'arenato Curiangolana queste partite hanno un uguale coefficiente di difficoltà per cui la corsa per il primato al giro di Boa non ha una vera e propria favorita la volata è incerta e le due battistrada hanno le stesse possibilità di spuntarla per quanto riguarda le altre il calendario riserva dei turni esterni alle tre grandi che si trovano in zona playoff il Pineto va a Cupello il Martinsicuro è di scena a Capistrello mentre il San Salvo viaggia in direzione di Alba Adriatica l'unica big impegnati in casa invece è il Morro d'Oro chiamata ad affrontare un miglianico che dall'alto dei suoi 25 punti vive una situazione di assoluta tranquillità in basso invece si giocano alcune sfide molto delicate in Francavilla San Buceto e Torrese Montoglio ci sono in palio dei punti che in chiave salvezza valgono doppio un'altra sfida da dentro fuori è anche Acqua e Sapone Celano tra i marsicani c'è da registrare le soldi in panchina del no tecnico Luigi Morgante che in settimana ha preso il posto di felice fidanza esonerato a causa dei pessimi risultati fatti registrare dall'undici celanese sempre sconfitto nelle ultime 5 partite e a secco di vittori addirittura dallo scorso 20 di settembre Calcio a 5 adesso saluta il 2015 con una sconfitta l'Aliciani Teramo in Serie C1 di Fuzza nella penultima giornata del girone di andata e ultima dell'anno i Teramani sono stati sconfitti a pala Giorgio Binch per 2-1 dall'All Games San Salvo vince in trasferta e mantiene il passo della capoista Tombesi l'Audax Gymnasium Atria per Entorio il 7-2 con cui gli Atriani hanno liquidato il Sagittario a sorpresa infine l'Atletico Silvi è stato sconfitto in casa 4-1 dal fanalino di coda Eschieti adesso il basket in Serie A2 Roseto gioca domani pomeriggio sul parquet della Ravenna Biancazzurri vanno a caccia della settima vittoria di fila per consolidare il secondo posto in classifica in Serie B Campri impegnato in casa nel derby contro il Vasto Giulianova invece ospita il 2-S Martina Basket in Serie C Silver infine sono in programma BT15 Torre Spess e Silvi Basketball Teramo passiamo adesso alla palla a mano il bilancio di una vittoria e di una sconfitta quello delle teramane femminili nel campionato di Serie A1 la bioapta Teramo ha vinto 31-30 sul campo di Merano dello Schenna da segnalare le 16 reti della cannoniera Palarie è stata invece sconfitta Mestrino la gommeur Teramo 29-26 il risultato finale in favore delle padrone di casa nonostante le 10 reti realizzate dalla Crese per la squadra di Serafino da Brecciosa il terzo posto è ancora lì in attesa dell'incontro che vedrà impegnato domani il Cassano Magnaco che può mettere a rischio questa posizione domani mattina sul campo del Ariosto Ferrara adesso prima di lasciarvi la programmazione sportiva prevista da Teleponte nella giornata di domani si comincia alle 14.55 con Studio Stadio tutti pazzi per il Teramo sono previsti aggiornamenti sull'andamento della gara Spal-Teramo e collegamenti con i campi in cui sono impegnate le squadre abruzzesi del Girone F in serata alle 19.30 scusate spazio ancora una volta a Game Over non perdete l'appuntamento perché potete seguire anche gli highlights dei match giocati in questo lungo weekend calcistico questo è tutto grazie per averci scelto io vi auguro la più cordiale buonasera con i programmi di Teleponte grazie a tutti 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 grazie a tutti